Martedì 28 novembre ci troviamo a Bologna per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore, tema della giornata il contrat. Più di 200 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione, tante anche le aziende che hanno potuto raccontare le novità presenti oggi sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Noi ci occupiamo di arredo ufficio specialmente del legno impiallacciato e anche del melaminico per cui di tutto quello che riguarda arredo ufficio da mobili, scrivanie e anche l'ultima cosa che abbiamo introdotto una cosa innovativa nel panorama del mobile per ufficio che è un sistema di cucina dedicata all'arredo ufficio modulare, componibile con una massima flessibilità per il cliente per cui se la può comporre come vuole e questo va a integrarsi con il nostro concetto di arredo ufficio che mette al centro l'individuo per farlo sentire a suo agio, per farlo lavorare bene e per cui per aiutare anche l'azienda a produrre. Soprattutto ho notato molto un interesse sulla cucina ma anche su elementi di fonossorbenza e anche di le nuove tendenze della regolazione in altezza delle scrivenie per cui tutto quello che ruota attorno al benessere dell'individuo in azienda.